Vi aspettiamo domenica 16 ottobre a Civitella del Tronto, dalle 9 alle 18, presso tre tappe che sono Santa Maria dei Lumi a Civitella del Tronto, l'Abbazia di Santa Maria in Montesanto e Villa Verardi a Villa Passo. Oltre a queste tre tappe, di cui una è ad esclusivo ingresso dei tesserati FAI, ci sarà un trekking organizzato dai volontari del CAI di Teramo. Vi ricordiamo inoltre che durante questa giornata sarà possibile accedere con un ingresso ridotto al Museo NACT di Civitella del Tronto e alla visita wild della Fortezza. Ci saranno inoltre riduzioni presso i ristoranti convenzionati. Il FAI è comunque sempre molto presente a Civitella del Tronto, l'ultimo evento c'è stato quest'estate con il progetto Puntiamo i Riflettori e ha organizzato una bellissima serata suggestiva alla Fortezza. I fondi raccolti in quell'occasione hanno permesso il recupero e il restauro di una tela che è stata scoperta poi per caso nella chiesa di San Lorenzo. Quindi è importante sottolineare l'azione del FAI che comunque fa progetti ma alla fine poi concretizza in modo pratico appunto questa che è la raccolta dei fondi. Anche perché questa giornata sarà anche l'occasione una nuova campagna di raccolta fondi per eventuali e nuovi progetti del FAI.